buonasera a tutti ragazzi è sempre solo forza napoli sempre comunque dovunque perché tutto resta in munizio è sicuro è sicuro ragazzi sicuro perché vincerà a verona con questi sicuro veronese è una couture ecco voi di che fa ma poi che dici no ma questa squadra in serie sta squadra insieme che fa quando deve giocare a 11 dietro la palla ma che sfizio ci stai qua per piacere noi nel primo tempo anzi tutta la partita ma attaccata ovviamente c'è stato il gol del grande lorenzo insieme e manca a fare il posto al 29 29 per la gabbana napoletano 29 stanno in coppia giulietta in coppia giulietta in coppia giulietta in coppia giulietta ne soccola come si sa grande nome le 2 a 0 mamma mia almeno per un po' fino alle 15 stanno il primo posto aspettando inter fiorentini che poi ci saranno gli sconti diretti stanno la coppia romenaccia catenaccia si chiedono tanto perciò questa è una couture proprio bella ma andorlì ma andorlì e cantaci i cori razzisti e cantaci l'amore ho stato cantato e sputtevo dicevo tutte le parole come mi ha segnato lorenzo insieme io voglio mutti ma proprio mutti mamma mia sto giorgio al centro campo voglio pure mi è piaciuto a parte tutto il bello con quella aiutano i giochi ci abbiamo gioco che la concentrazione quella voglia di vincere chi l'ho bepito mamma mia se cazzo perché vengono io voglio questa soddisfazione non sa che falla non sa che falla gratuita chi l'ho barletta non sa che chi l'ha morto quanta falla non c'è si scato quanti falla ma noi non prevale non ci servono l'arbitro noi siamo un'apola siamo grandi che godura oggi voglio oggi abbiamo il giro diciamo mangiato un bello piatto e carota alla giulietta per strammatizzare un po' come allora per chi è cuoco un piatto di carota alla giulietta fossero e carota bello fatto sottile sottile a mio due giro 2 a 0 amma trattate se noi ci abbiamo numero uno che si chiudeva oggi secondo me sta partita finneva addirittura 4 a 0 perché sto vero una popa inutile in serie a è popa inutile si c'è un piccolo godo 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 troppo assai troppo bello ma quando siamo in questi colori se vinciamo si godo ma pure si si perde non si godo si si perde si è amareggiato però troppo 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 bello perché giulietta lo confermo e vu mettervi riscritto è una zocca e manca falla posto come vi ho detto prima al minuto ventinovesimo segna con salone iguain è un minuto ventinove è il numero ventinove pagata cabola napoletano chi capisce capisce stiamo in coppa tutti e giulietta perché ne so che vi piace vi saluto con una goduglia ma manca mille ma un bacione sempre e solo forza napoli perché tutto riesce a munnezza e siccherò mando lì e canto con me siccherò ciao e forza napoli